eccoci qua con il secondo video di oggi 11 settembre allora nel video precedente mi ero sbagliato perché il tempo di schiusa non era 85 giorni ma bensì 81 e invece questa tartaruga che ci ha messo 85 giorni per nascere infatti qui le uova erano state deposte il 18 giugno e oggi 11 settembre fanno 85 giorni andiamo a scoprirla insieme e a vedere se le abbiamo già prese tutte qua le uova oppure no perché non vi ricordo eccola qua andiamo un po al sole e andiamo a scoprire se c'è qualche altra sorpresa questo è il guscio vuoto ma penso che qui ormai non ci sia più ah no eccola qua stavo proprio per dire le ultime parole famose eccola qui intanto mi sposto in una posizione un po' più favorevole raccogliere le uova e tenere il telefonino non è proprio il massimo è però ecco volevo farvi notare una cosa vedete qui la terra com'è dura in questo caso la terra è più morbida anche perché ho preso altre uova eccetera però qui la terra è molto dura questo fa sì che le tartarughe facciano fatica ad uscire molte volte escono dopo la pioggia dopo le piogge estive piogge di agosto settembre anche dei primi di ottobre proprio perché la terra diventa più morbida ragazzi ma qui c'è un'altra sorpresa ancora non l'avevo vista subito eccola qua eccola qui eccola qui eccola qui quindi oggi proprio una tantissima giornata tre qua tre qua e due nel video precedente andiamo un po prenderla come siete belle morbide andiamo di fare qualcosa con una fogliolina di olivo eccoti qua forza forza vieni alla luce non preferisce rintanarsi ancora un po oggi il tuo primo compleanno anzi no primo giorno non primo compleanno ecco ti qua ancora gli occhietti chiusi questa tartaruga vieni qui insieme alla tua sorellina andiamo a prendere l'altra adesso ci aiutiamo con una fogliolina di olivo ecco qui dai dai forza anche tu stavi bene qui è bella tranquilla non c'è mai tanta voglia di uscire vero allora ti andiamo a prendere oplala una due e tre a questo punto guardiamo se ce n'è ancora una perché non mi ricordo se da qui l'avevo ripresa oppure no no sembrerebbe proprio di no poi guardo un po' meglio perché tenere il telefonino stavare non è così facile andiamo insieme alle altre tre di oggi alle altre due uno due e tre eccole qua una due e tre quattro e cinque oggi proprio una bella giornata ecco 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 ecco